Buongiorno, siamo in un momento dell'anno 2021 particolarmente intenso perché nella numerologia esoterica il 21 ci parla della possibilità di partorire qualcosa di nuovo, di partorire una nuova volontà, un nuovo intento e anche fare un salto energetico. Come voi sapete sono stata l'organizzatrice e la traduttrice di Mike Booth, erede di Vicky Wall per circa nove anni e sono una grandissima appassionata indipendentemente dal fatto di essere un'insegnante del sistema Aura Soma perché il mio viaggio è in gran parte cominciato con l'Aura Soma ed è stato col sistema Aura Soma ed è stato per me un grandissimo strumento, lo è tuttora, di trasformazione. Tanto che se veniste a vedere nella mia zainetto io ho sempre pomander, quintessenze, arcangeloi e a caso mio comodino ho sempre la bottiglia Aura Soma con cui l'equilibrium con cui lavorare. Ma indipendentemente da questo volevo proprio parlarvi dell'energia di questo momento perché tra poco, cioè con l'equinozio di autunno, entreremo nell'autunno e entreremo totalmente in energia dell'arcangelo Michele. Perché l'anno è suddiviso in quattro parti e i quattro arcangeli principali, Michele, Raffaele, Uriele e Gabriele governano le stagioni. Quindi adesso siamo ancora nell'estate, governata dall'arcangelo Uriele, stiamo per entrare nell'autunno che è governato dall'arcangelo Michele. Cosa significa questo per noi? Cioè alla fine che cosa ci interessa? È molto importante perché non molti sanno che gli arcangeli governano anche le epoche storiche dell'umanità e Michele ha proprio preso il dominio di questa epoca, dell'epoca in cui siamo, che è iniziata nel 1879 e che si concluderà nel 2233 ma anche non solo questo ma perché ci stiamo avvicinando proprio all'apogeo di questa epoca che sarà il 2056. Quindi siamo nel 2021, mancano fondamentalmente solo 30 anni. Il dominio e l'energia forte di Michele non è solo quella che è in questo momento ma diciamo il suo intento, il suo lavoro sta diventando ancora, è molto molto forte la sua frequenza proprio perché stiamo entrando e ci stiamo avvicinando al punto all'apice della sua trasformazione. Quello che Michele sta facendo in questo tempo fondamentalmente è supportare il risveglio dell'energia del cuore perché il grande compito di Michele, e forse pochi lo sanno, è di portare a compimento e anche di fare rinascere. Quindi quando guardiamo le profezie maya che parlano del fatto che siamo nel 2012, la fine del tempo, no? Ma inteso non come la fine del mondo, la fine del mondo come lo conoscevamo. Stiamo concludendo i numeri karmici perché i numeri karmici vanno da 10 a 22, quindi il prossimo anno sarà l'ultimo numero karmico, cioè in cui l'essere umano incontra se stesso attraverso l'esperienza della vita e ci aggiungiamo anche questo passaggio. Siamo veramente in un momento estremamente importante. Questo grande passaggio ci sta portando verso la nuova umanità. Quando i miei maestri mi parlavano e mi dicevano noi siamo quelli che stavamo aspettando. Mi sembrava di sentire, quando io ancora ero una allieva, lo sono tuttora, ma diciamo così più allieva che insegnante, mi sembrava che parlassero di qualcosa di totalmente strano. Ora che guardo colore, numeri, astrologia, vedo proprio che questo grande cambiamento e questo nuovo tempo sta arrivando, oltre al fatto che con la congiunzione che abbiamo avuto a dicembre tra Saturno e Giove, vicinissimi, è cosa che accade veramente raramente, abbiamo proprio, siamo entrati nell'era dell'acquario, che è l'era in cui ognuno di noi trova la propria individualità e trova il proprio posto nel mondo. Michele che cosa governa e soprattutto in relazione a questo tempo? governa le forze del movimento, le forze, e lavora anche nell'area del nostro tema astrologico che abbraccia la bilancia, lo scorpione e il sagittario, perché governa l'autunno e quindi questi segni sono i segni zodiacali autunnali, governa il nostro passato ma anche il nostro futuro. Sta mettendo a confronto due forti realtà e se guardate, guardate anche un po' tutto quello che sta accadendo in questi anni, in questo periodo, in questi anni nel mondo, c'è un grande cambiamento, una grande chiusura, una nuova energia sta entrando proprio per portare un totale cambiamento nelle nostre vite, che deve essere proprio basato non dal tempo come denaro, cioè faccio un lavoro semplicemente perché devo guadagnare del denaro, ma il tempo come arte, cioè il grande vivere la qualità della nostra vita sulla base del nostro, la qualità vuol dire fare ciò che amiamo fare e sentirci realizzati profondamente in noi stessi, che è proprio l'era dell'acquare, trovare il nostro posto nel mondo. Infatti, e qui ho fatto anche vedere, no? Questa è, nel sistema una soma, la bottiglia dell'Arcangelo Michele, la bottiglia numero 94 Michele, è nata, la bottiglia di Michele è nata il primo dicembre 1994, il giorno tra l'altro del mio compleanno e anche il compleanno di una carissima amica che vedo ci sta guardando, un blu chiaro su giallo chiaro. Perché questa bottiglia mette intensificazione su questi due colori, che dal punto di vista energetico, tra l'altro non è un caso che anche le due sedie dentro di me siano proprio quello, giallo, blu e c'è l'arancione che è la linea del tempo, perché Michele va proprio a portare una nuova energia di cambiamento nella linea del tempo. Il blu è il sé superiore, sia fatta la tua volontà, cioè la volontà della nostra anima, del nostro progetto divino, e il giallo è legato al plesso solare, al piccolo sé e quindi a quello che pensiamo di essere, non quello che siamo veramente. Noi pensiamo più al fatto che gli altri apprezzino cosa facciamo, quello che siamo, come ci comportiamo, invece veramente di essere quello che siamo veramente. Quindi siamo focalizzati più sulle nostre competenze, diciamo così, che sul nostro essere, su quello che facciamo piuttosto che quello siamo. E Michele, che governa questa epoca storica fino a 2233, ha lo scopo di aiutare questo grandissimo cambiamento della umanità. L'emulsione di Michele, blu con il giallo, avete il colore verde, e il colore verde è il colore del chakra del cuore. Quindi il colore blu, che è il colore del chakra della gola, che è il chakra attraverso il quale noi riceviamo e comunichiamo con altri livelli. Quindi si parla della comunicazione che passa attraverso di noi, della piccola voce interiore che parla dentro di noi, invece che la voce della nostra mente, che è basata sulle nostre paure. E proprio che cosa fa Michele? Michele, non so se lo sapete, è associato al settimo chakra, è associato all'energia del sole, ed è associato alla domenica. Michele vuol dire colui che è come Dio, vuol dire fondamentalmente che dobbiamo togliere la nostra capacità, quello che noi crediamo di essere, di pensiamo di essere, a volte noi pensiamo di avere il controllo totale sulle nostre vite e non siamo Dio. Perché quando Michele prende il suo nome, quando nella battaglia con le forze celeste di Lucifero sguaina la spada e dice chi è come Dio, cioè fondamentalmente chi ti crede di essere, no? Perché noi pensiamo di poter controllare la vita, mentre la vita è in realtà, come sto scrivendo un articolo proprio sulla Gazette che uscirà nei prossimi giorni della scuola, che tra l'altro avesse piacere puoi scrivere il sito, la mia lista per riceverla gratuitamente tutti i mesi, chi è come Dio, chi ti crede di essere. Ed è nel sistema Aurosoma la bottiglia che, diciamo così, è accoppiata alla bottiglia 94, perché questo viene chiamato il ritorno della torre, della carta della torre, perché nelle carte dell'Aurosoma ci sono i tarocchi dell'andata e del ritorno, la carta dell'andata è la numero 16, è la bottiglia numero 16 che è tutto viola su viola, che ci chiede di cambiare il nostro pensiero e che è proprio il che fa parte del chakra 7 esteso ed è proprio associato al chakra della corona, che chi non lo sapesse è viola, che è legato proprio alle nostre credenze. E questa viola ci dice che non dobbiamo cambiare solo il nostro pensiero, ma dobbiamo cambiare anche il nostro sentire e tutto il nostro essere. Di metanoia, metanus vuol dire avvicina il tuo pensiero a Dio, avvicina la tua piccola volontà alla grande volontà, cioè alla volontà del tuo progetto per trovare il verde, la direzione, portare in essere la manifestazione, il verde è il via, prendere una decisione, avere una visione panoramica non limitata alle nostre credenze e aprirci totalmente a quello che noi veramente siamo, la realizzazione del nostro potenziale. Michele, scusatemi, è legato al sole ed è, il sole è associato al metallo dell'oro che ha proprio a che vedere col trovare la saggezza interiore, la saggezza veramente di quello che siamo. Nella cabala, per chi lo sapesse, Michele siede nella sfera di Tiferet che è quella proprio che è collegata, si trova nella zona tra il cuore e il plesso solare. Tiferet vuol dire bellezza e in questa sfera si avviene qualcosa di molto importante che è l'incontro con l'angelo custode, che è altro che non è che il nostro vero sé, cioè Michele ci offre veramente l'opportunità di entrare in contatto col nostro vero sé, come definisce Mike Booth, il presidente della Rosoma, con la nostra vera autenticità e possiede la spada. La spada non è una spada di combattimento ma è una spada di discernimento, ha la grandissima capacità di aiutarci a discernere quelle che sono le nostre paure, a sviluppare proprio, lasciare andare la paura e sviluppare la qualità della fiducia e della fede per poter lasciare andare tutti gli schemi che ci impediscono, ci limitano, che sono legati alla paura, che sono legati all'ansia e aprire proprio il nostro cuore per capire perché siamo qui e per quale motivo. Quindi voi vedete quanto questo è importante nella manifestazione del piano più grande perché siamo in un momento in cui ognuno di noi con questo urano che si trova nel toro, urano nel toro ci sta chiedendo fondamentalmente come viviamo, come ci stiamo guadagnando da vivere, che valore abbiamo di noi stessi e dobbiamo ricontattare fortissimo la forza del nostro vero sé, la nostra autenticità e lasciare andare tutte quelle credenze che ci hanno limitato, che hanno impedito a noi di essere noi stessi. Questa bottiglia è composta dai due colori primari perché non so se sapete che i colori non nascono tutti insieme, i colori nascono dalla combinazione della luce con l'oscurità, dello ying e dello yang fondamentalmente e il blu, il primo colore che nasce è il blu perché viene portata luce sull'oscurità e luce fu, viene portata luce sull'oscurità e quando portiamo luce sull'oscurità abbiamo la nascita del colore blu. Il secondo colore che nasce è il colore giallo perché è l'oscurità che viene portata sulla luce, quindi quando oscuriamo leggermente la luce abbiamo il giallo e poi successivamente viene il rosso. Michele, l'arcangelo Michele a livello energetico, ossa essere legato al ciacca della corona e portare un messaggio estremamente importante porta con sé anche la vibrazione di questi due colori che sono i colori da cui si creano tutti i colori, da cui energeticamente si sviluppa poi l'arcobaleno del nostro essere perché tutto parte dalla vibrazione del numero, dal numero abbiamo il suono e dal suono abbiamo poi il colore, la manifestazione, quindi quello che vediamo manifestato, la luce visibile non è altro che un riflesso della nostra consapevolezza, quindi nel momento in cui andiamo a riallineare, essendo noi vivendo in un universo che è mente, in un universo che è un ologramma, manifestiamo l'effetto della nostra consapevolezza, quindi più ci allineiamo a noi stessi, più permettiamo l'energia di passare attraverso di noi, più tutte le frequenze del nostro essere fisico viene allineato, infatti nel sistema rossoma si dice tu scegli i colori che scegli perché i colori che scegliamo, di cui ci nutriamo, non sono altro che un riflesso della vibrazione di quello che sta accadendo nelle nostre vite, di quello che stiamo vivendo, il colore riflette il movimento della coscienza e quello con cui stiamo andando a lavorare. Vi faccio vedere l'uomo arcobaleno che è molto bello da vedere, quindi vedete quando noi lavoriamo dall'alto e sul settimo chakra andiamo a lavorare su tutto l'arcobaleno del nostro essere, perché l'uomo si pone nell'aspetto visibile proprio in mezzo tra le onde più basse e le onde più alte, ma vi faccio vedere ciò su cui lavorano gli arcangeloi. Gli arcangeloi che sono delle essenze che sono nate a partire dal 2000, perché prima non esistevano nel sistema rossoma, tra il 1999 e il 2000 nasce qualcosa, una prima essenza che porterà poi alla creazione di quelli che sono gli arcangeloi che è il santo graal, l'oli grail. Questo è ancora all'interno del quinta essenza e il santo graal indica un evento importante, la possibilità dell'apertura dell'essere umano a una vibrazione più alta che è quella degli arcangeloi e degli arcangeli. Gli arcangeli cominciano a manifestarsi dal 1994 nel sistema rossoma e poi successivamente nascono anche gli arcangeloi che sono queste essenze in uno spray piccolo o ancora molto più comodo lo spray molto grande che è l'air conditioner che vi consiglio vivamente. Perché cosa facciamo? Quando noi andiamo a spruzzare l'arcangeloi o l'air conditioner dell'arcangelo Michele ma esistono anche degli altri nel nostro, nella nostra stanza, nel nostro campo energetico, che cosa andiamo a stimolare? Andiamo a stimolare in noi dei semi di luce specifici, cioè vi faccio vedere qui gli arcangeloi lavorano su questo livello blu, questo blu che vedete, queste ali meravigliose che noi abbiamo, che è il corpo superiore, questa è la nostra aura, queste sono le nostre ali. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di ali per volare e le ali sono legate al ciacca del cuore, ecco perché anche a livello della cabala il volo è associato al ciacca del cuore, anche nella cabala Michele si trova in Tiferet che corrisponde alla zona più o meno della zona del cuore, varia a seconda delle tradizioni ma la zona è quella. Gli arcangeli hanno uno scopo particolare, tutte le energie degli arcangeli hanno proprio questo scopo. Gli arcangeli sono esseri di fuoco, sono energie di fuoco, quindi vuol dire energie molto vicine all'energia del fuoco simbolicamente allo spirito. Quindi che cosa fanno? Hanno uno scopo estremamente importante perché hanno proprio lo scopo di permetterci di supportare, focalizzare in noi la realizzazione del nostro intento spirituale. Quando voi fate un corso, controllate sulla base dell'essenzione delle bottiglie gli arcangeli che sono presenti nella stanza, noterete sempre che ci sono non più di due o tre arcangeli. Perché gli arcangeli hanno, io lo chiamo sempre, lo scopo del burattinaio, cioè ci aiutano a connetterci con le persone che realizzano il nostro scopo, nella nostra vita e quindi diciamo tirano le fila, tirano le fila aiutandoci a creare una sorta di discernimento, ma questi tutti gli arcangeli, non solo Michele, di discernimento, tirano le fila per aiutarci a metterci in contatto con le persone che ci servono per realizzare il nostro obiettivo, il nostro proposito. E questa è anche la ragione per cui è estremamente importante lavorare con l'energia Arcangelo Michele in questo punto del tempo, perché non solo siamo già sotto la sua influenza. Michele protegge Maria, e questo è scritto nell'Apocalisse. Maria è con lei che ha elevato la propria vibrazione, quindi aiuta a elevare la nostra vibrazione in particolare, oltre al fatto che nell'ultima parte dell'anno ci aiuta proprio a separare il grano dalla pula. Quindi questo è un lavoro straordinario che noi possiamo fare supportando nel nostro ambiente, con l'air conditioner in particolare il supporto, portare l'energia, la vibrazione dell'Arcangelo Michele, perché ci aiuta a lasciare andare per rinascere. Abbiamo bisogno in questo momento, l'Arcangeloi, l'energia di Michele, sia come bottiglia, potete utilizzarla, ma semplicemente come spray, averla presente in dove noi siamo, proprio perché abbiamo bisogno di fare le scelte corrette. Michele proprio ha la capacità del sole, supporta il nostro sole, quindi energeticamente supporta la nostra anima e ci aiuta a discernere, quindi capire esattamente che cosa deve essere tenuto e che cosa deve essere lasciato andare. Ci aiuta proprio questo grande passaggio a lasciare andare ciò che impedisce di scegliere perché è basato sulla paura. Il primo chakra è legato alla vibrazione della paura, più saliamo di consapevolezza verso l'alto, più siamo nella vibrazione dell'amore. Quindi ogni chakra muove energeticamente un'energia, perché ogni chakra, non so se sapete che il colore, proprio nascendo dall'intersecarsi della luce, della combinazione della luce con l'oscurità, è il giorno e la notte, quindi anche durante il giorno viviamo i colori, muove la coscienza dentro di noi. Quindi noi siamo costantemente in un processo trasformativo, di cui non ci rendiamo consul, di un'energia yin e yang, e pian piano è elevare la nostra vibrazione ad un altro livello. Bene, spero di avervi fatto cosa gradita con questa spiegazione di quanto sia importante proprio chiedere il supporto di Michele. un abbraccio di luce e tante benedizioni. Ciao ciao!